Un folto gruppo di esponenti dell'industria nazionale per le confezioni ha visitato a Vercelli un nuovo stabilimento per la produzione di una fibra artificiale il cui uso ha raggiunto altissime punte. I nuovi impianti consentiranno il raddoppio della produzione di una speciale fibra che apprezzata dai tecnici e dal pubblico per le sue caratteristiche di tenacia e finezza trova sempre più larghi impieghi nella fabbricazione di impermeabili calze e biancheria femminile di pregio. I visitatori hanno seguito con vivo interesse i chiarimenti forniti sui modernissimi macchinari e gli speciali processi di produzione. La visita ha offerto l'occasione per un fruttuoso scambio di esperienze sul piano tecnico industriale e commerciale nel quadro delle iniziative che riflettono il sempre più accentuato progresso della grande industria piemontese in Italia e all'estero.